Grazie a tutti di essere qui oggi conosco per la stonda di un centro culturale universitario e che abbiamo oggi in un quadro di suo ciclo nella futura antologia della letteratura corza Angelo Zanto Petrera che ha presentato oggi un acquisito particolare della letteratura corza che a conto mio e a tempo molto importante nella letteratura d'Odinka e manco così sfruttato nella storia della letteratura ben a dire che ha stampato la storia non dico mica la memoria, dico bene la storia ma toccare a disegurare a te a precisare questa piccola nuova in seguito e dunque è molto importante in un quadro del sistema di qui e ti ringraziamo torna e secondo noi e ti ascoltiamo con questa passion e piacere Allora, buongiorno a tutti voglio ringraziare prima il centro culturale universitario il centro culturale universitario il centro culturale universitario il centro culturale universitario e di nuovo a Diego Moutier oggi è che ha presentato un aspetto presente di maniera importante in questa nuova antologia a Gursa che esce da Ghiapogu di a stampa di storia allora divati a storia un'emica memoria memoria di ciò che appartiene a un gruppo di un patrimonio in via di riconoscenza invece di storia di un'inchiesta critica che cerca o che cerca a abiginarsi di una verità allora a di aberte dun segolo importantissimo per a questione di storia in la lideratura Gursa di un'19esimo ben intesa di etando qui e leie tra storia e la lideratura si vage in un dibiù più importante allora ciò che di aminta di qui si è da bassa in Corsica ma si bassa in l'Europa zona di etando qui spunta un termine abbastanza complicato a definisce un cuburo di l'identità nazionale ciò che la boese non t'acchi strumenti ad arrivare dunque è a storia di un cor di un segolo di l'identità nazionale per precisare o di genoesimo allora Anne-Marie Thies che dice una storiana importante in uso libro la creazione di identità nazionale dice per esempio che l'esistenza di una nazione ribosa un piccolo gruppo di persone che ha da mostrar un territorio di oid e di che su territorio esiste e deve avere una sovranità legittima ma l'identità nazionale deve rispondere a una serie di strumenti allora la storia di si ad azerve l'identità nazionale si dice qui l'idea dun padrimonio in pericolo da salva e tanto qui si bastano di più e gulette i desori di nazionale in pericolo e chi iscrivani i volcloristi si mettono a salvare da fare nazionale da creare nazionale e il romanzo diventa veramente stebiga qui era l'epica dove la poesia era sempre il genere maio diventa veramente un punto d'inizio a storia e scrittura di storia si so basate nanta un género liderario e su género che un era tanto estimado a sebiga era un romanzo famoso fra tant altri che influencia abbastanza scrivani di tutti i paesi di Ivanoe di Walter Scott di Genoese Musegulu e che dopo der ra da Amanzoni per esempio Victor Hugo per Avrancia dunque urmanzo die veramente importante per question di Astoria e per azole a lideratura e e an kuburu odia Astoria a un impatto non ta es chance umane sobretutto a leia tra Astoria e a lideratura bir bir per esempio una obligazione regente l'histoire è una literatura contemporane divan Jablonka un storiano che riun e non ta dimension proprio lideraria di essenz umane Allora per Astoria tutto ciò che si basse a qui si basse in Europa ma Astoria un ferma mica stranjeira a ciò che si basse in Europa che è liberamente stato un sbaglio dall'observatore e da un aberto di storiografia di un logo scantado iduto completamente stranjeiro a tutte modernità che si basse completamente stranjeiro all'idea di scambio intellettuale o culturali e i barretti esempi di personaggi che va di a brisanta mi mostrano il contrario un personaggio di un importantissimo per lea tra storie e lideratura è Francesco Taviano Renucci Francesco Taviano Renucci è un intellettuale maio di Rodione Bastiaccio è lui crea a biudega di Astia e assai a buonore assai bresto di un uomo che amenta a volintà di guletta e di dramandera quando l'usilè di memoria ci conta azote dell'ina impero gazet e ciò che lui dice non a volintà di tutte le storie che l'usante non ha certi personaggi e dice ma ciò le ha accolete si 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 vaticui ciò leggerli si pieno gantati ciò leggerli che li appino una seconda uida ed ciò che l'ha dava che è novelle storiche corse che lui pubblica già in 1827 di una pubblicazione maggiore che ha aumentato a un vilano e Francesco Ottaviano Renucci ha doppiato la prima pubblicazione di una storia di Corsica allora perché è interessante Renucci perché c'è uno di libri che fanno la differenza la distinzione chiara tra l'ideratura e storia non c'è una piccola problemica che c'è quando pubblicano queste novelle che un rappresentante di un breveto di Cotar che rimprovera Renucci di qualcuno che vuole chiamare l'indipendenza allora che c'è veramente attaccato a Francia all'idea di una gorsica repubblicana francese ma sa bulemica qui porta a mente all'importanza di l'ambigüedà di Astoria e soprattutto l'ambigüedà di un tempo di genoesimo dunque in Senuele l'homme gorsu didando e bishto come un etnotibo perfetto un modello di virtù Senuele d'altronde ognuno di i so didoli fanno una riveranza a una virtù e come pareti scrivani dell'epica l'eroe e i vati nazionali sono presentati come rimedi di a violenza e a indetta di veramente ciò che a violenza a indetta fanno veramente so pessimi all'epica e gli intellettuali scrivani si servono in isoscritti di pareti e gasi per dare ad un'altra maniera di gampare allora va di avere un esempio di una novella che si diciamo l'ospitalità che ci impara due affari prima l'ospitalità parla di due uomini piuttosto due glani che si vanno a guerra e un giorno un uomo di un clan si si vanno in un spaz di da ma piove si è pillato in un temporale e decide d' alla grotto in a caso di uso nemico allora il nemico è obbligato d'accettarlo per via dell'ospitalità ma i due nemici si ridrovano di betta a vigura di San Piero Gors si si metteno 3 2 a parla di San Piero Gors che è presentato come il padre della patria San Piero e si vanno un duramento a vire di violenza eccetera e si regu il rullo sugiale di Astoria il rullo quasi medicinale di Astoria un rimedio veramente e l'esempio di Renucci ha da essere ribiliato da pareti altri attori importanti Regolo Carlotti per esempio tre novelle morali tratti dalla storia patria in 1835 allora è lo Regolo Carlotti è lo bene dal mondo dell'agricoltura dell'agronomia dunque è veramente è so pubblicazione non temi completamente strangeri ma prova dell'importanza della storia è lo di noi s'adamete a scrivere queste tre novelle di non si distingui s'ampara che l'audore sapò di assai non hai desti di un medievo Giovanni della Grossa Filippini e qualcosa che si basa di in Europa di che un medievo diventa veramente un periodo maio encubura un nivel architettorale e quando si riscobre si destini della Grossa Filippini Carlotti si ne serve ma per costruire un testo proprio leaderario regolo Carlotti ha una privarenza in belge di Renucci e Grimaldi per eroi anonimi più collettivi fora di Arrigo Belmeser che è in Cor di Anuela ma insiste non ha avvorto di un bobulo di Bet o a di Rania e torna qui non la ultima frase si era di nu arrivare a violenza a indetta questa scena che si basa in Anuela la fede tradita arrestate o barbari non inspargete quel sangue che non doveva versarsi se non a un pro della patria e ci sono pareti e frasi di stessa di per dire lermi si va e uso i lermi in Corsica solo per divendere la patria e mica per altro resto l'istessa dimertia di Gianvito Grimaldi è bene di Niholo di qualche sia che ha fatto il studio in Roma in 1855 pubblica delle novelle storiche corse allora si dimertia di un stile più ampio una scrittura più ricca in dettagli invece di Renucci e di Carlotti che hanno un stile assai più epurato e anche un altro esempio di rigacciato da Zonuela Ricciardo e Fior di Spina concerne la violenza e dice anche fra i tanti mali che in ogni tempo delle nostre dolorose vicende hanno funestato il popolo corso e forza ad libertarne non dirò la servagia costumazza di portare le armi si è considerato esempio qui a storia a storia lideratura nasce veramente a se biga di 19 e che ha un ruolo sugiale di glorificare l'erroi e i vatti i passati può dar ad 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 un'altra maniera di campare e scantare la violenza solo una parola per l'attività teatrale allora che costituisce sconisci da sa e meriterebbe un vero travaglio ma allora l'attività teatrale qui non sta liderando a gorsa di un'attività importantissima a di genoesimo il destino di il di 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 per esempio l'Italia con verdi in 1842 la rivoluzione di belgica stiata aperta da una ripresentazione teatrale dunque è importantissima ma abbastanza sconisciuta in Corsica solo un esempio a bezza San Piero Gorso scritta di un storiano importante Giancarlo Gregori che è lui ammenta l'importanza di San Piero Gorso un personaggio maio con ripresentazione che di di Anku Awa e che serve veramente dare guerra all'idea di una Gorsica repubblicana francese veramente è spesso presentata in Sides Ticui come un personaggio che ha visto la bene francese di Gorsica allora fra tutti i saudori un eccezione non ta un bian ideologico di l'eccezione salvador viale allora salvador viale eccezione perché perché c'è una pensata intellettuale critica di avrancia veramente c'è un solo che si permette all'epica di fa grittica di avrancia di un uomo che per tigibedia ha due progetti culturali maio contunque di Niccolo Tomaseo che viene d'Italia dunque isoganti bobulari e è lettera di Pasquale Bauli dunque quelle lettere soprattutto si erreghi a storia l'interesse assai assai e in Azonuella c'è una novella che simbolizia di avanti appena gridica di salvador viale di betta avrancia di relazione di un viaggio per mare che è presente nell'antologia allora relazione di un viaggio per mare è veramente un testo strano un uomo che biade imbattelo ubatelo c'è una d'impesta faccia un sogno e c'è il vantoma di Pasquale Bauli che bene ha parlato ma salvador viale si serve di Pasquale Bauli per criticare ciò che è diventato a Gorsica di Pasquale Bauli si lamenta di ciò che è diventato e salvador viale critica di avrancia l'administrazione è così complicata e l'anere c'è di un aspetto abbastanza reazioneario ma si serve di un personaggio che l'amperia un guardo non l'uso baese per critica in una bustura abbastanza all'antigone abbastanza reazionearia dunque al XIX ci sono pareti casi di tante manere di fare uso di Astoria in un modo liderario allora faccio un piccolo sarto in Udampo si Boeria parlava in tesa di un lideratore in lingua francese che fanno uso di Astoria durante la terza repubblica l'ha di una modesa ma questo ciò che ci interessa di Udradu i guerri è l'autonomismo allora tanto a Gorsica attraversa in questa rappresentazione culturale una nuova d'app con l'autonomismo di l'anni 20 c'è dun aberta messa in piazza un nuovo sistema di rappresentazione storica allora cosa Boleh Dic da conquista francese fino a Udradu e guerre e rappresentazione storica erano devine così San Piero dira Uabu di Abadria e l'altra persone l'altri eroi un ero secundario c'è veramente un scambio maio che si messa in piazza a un livello di rappresentazione un investimento maio di un periodo paulista che di berramente peribìà la frase di Patrick Geri un instant d'eternità amovra faggia di periodo paulista us as ostonda d'eternità e una occupazione forte di accena memoriale due amovra di interessante di che per prima orta ad occupare un spazio pubblico comparez gli animenti a grogge di ricordo di uso ma c'è di altri parecchie blacche parecchie monumenti a gloria di cercine l'udia d'intuba o lì hanno messo in piazza che hanno testimoni di soccubazione di accenna soprattutto amovra di un giornale che ha una viso particolare in antara questione lideraria amovra di sera dudata d'un'instituzione maio a sostanperia che ha veramente una politica provisionali editoriale una politica lideraria larga con traduzione di classichi universali Don Quixote per esempio un occupazione di un spazio pubblico che era veramente garo amovra con teatro corso ma di noi con lezioni i libri hanno classificati e un spazio ben inteso dato a aggrazione l'obiettivo di avere una lideratura nazionale incapacità di rivalizzare con l'altre ciò che è abbastanza rappresentato con sagarigadura con lideratura gorsa giuga giuga che chacca una rivista a lideratura francese allora per amovra e per riunire au sujeto storia lideratura adiu certi un testo che non mica in l'ontologia ma ciò le contunca parlane di un testo che si chiama gli studi di bilone allora di un testo che aveva pochi lettori non mica essere stampati in grande quantità ma a un livello di idemi di la maniera di ripresentare la storia di importante allora di una bezza ideata pubblicata nel 1935 inaugurazione culana rara sarà la pubblicazione di sa gulezione qui di un'opera a tempo politica e metaforica ci sono personaggi veri di Astoria come Paoli San Piero San Buguccio e che contrastano con altri più allegorici come Ugeno della montagna a ninfa di Uolo Mouvrela a Vergine Maria dunque c'è veramente un'immaginazione un'inventività scadenata allora Astoria tratta di pareti simboli volte di Astoria di Gorsica c'è la libertà che è imprigionata in Ponte e e tutti l'eroe di Astoria di Gorsica devono andare a salvare dunque c'è un simbolismo volte fatto da modi nazionali e un acconciamento nuovo per abortare Astoria un sol esempio che simbolizzano appena rimesso in causa di un beato eroico di Astoria a momento c'è una scena dove San Piero e San Bucuccio sono accanto e bene a Pasquale Baoli bene a Cavallo e San Piero dice a San Bucuccio ecco che è un vato di riabilità un ero che era stato per ultimi anni appena scordato e poi strumentalizzato in un pregorsore della rivoluzione francese per esempio ma i vestuti di bilone simbolizzati a abinsata di am uvra di bet tua storia allora per i desti odinchi vale a di ad ubiato i desti di su si binti ultimi anni forse che ci saranno scordi ma quando si viede mortorio ombre di guerra il sermone sulla sud di Roma si erreghi c'è un nuovo rapporto a storia che di metter in piazza una brisenza più importante per esempio di la storia contemporanea che dire qualcosa durante il acquist con era tanto amintado allora adiu certo due evenimenti che sono ancora per esempio di tutti questi libri qui è abrimaguer è veramente l'evenimento più amintado di l'audore da odinchi e l'altro evenimento di la storia coloniale l'abentura coloniale di igorsi che soprattutto ha costruito l'impero coloniale di avrancia e che c'è un vertigio basso di 30.000 40.000 uomini su periodo qui inaugurano una nuova pensata per abortare la storia in due risponde a un temporaneo maledì pareti evenimenti scordati in anni passati che sono in reabilitati e presentati come i ueri rompidori di storia contemporanea che noi campiamo in prawa e il più bel esempio di morto io penso se scena che si passano a tempo all'epica da oa all'e a un sumerismo a udurismo eccetera e che trovano come una spiegazione in in drincene della prima guerra per esempio allora prima di fare una conclusione va di aprizentare due personaggi che simbolizzano l'elea abbastanza zeppa tra storia e lideratura ovrimo di cercinello per esempio allora cercinello a un livello di esurgente storico c'è poca affari cioè la dil ma a un livello liderario c'è una massa affari c'è sud estu maraviglioso diciottesimo di Giuseppe Ottaviano Nobili Sauelli Virne Morris che parla di sa viura di cercinello e che incubura se non è compio dopo c'è il curato di guagno di Gianvito Grimaldi in esonovelle storiche allora c'è la sabere che per esempio c'è un testo due a viura di cercinello non è mica l'istessa è presentato come più attaccato a avrancia e di un testo che per questa sarà criticato a sai da am e por se am la ripubblica co azostan per e dopo ci so pareti e canzone di uri acquisto fino a un occupazione regenta sai di un spazio pubblico co per esempio azostado la questa da vatta su ultimi mesi dunque primo personaggio ma se lucera un altro personaggio che ripresenterebbe l'ambiguità tra storia e lideratura qui di maria gentile allora qui c'è ancora più ricco perché maria gentile di noi a un livello di esurgente storico c'è poco affari c'è ancora quasi non ma il primo testo liderario di amor e religione di francesco taviano renucci un testo di una grande liderarità di più un ragonto conta sa storia qui e gli permette di dire che per esempio ugor deve essere cristiano e al principio di XX segolo diventa un soggetto quasi amore con maria gentile di vatela besca scritto in italiano maria gentile di Gian Pedro Luciardi con una visione di sauna controversata perché Luciardi abrisenta una persona a prod di avrancia che è più accumulante che tra fare e che sarà criticato a sai per esempio quando il usilè di un contrasto tra loco e popolo di Rina Dugo e Vincent Stagnar criticano a sai per esempio sud est e Antone Francesco Filippini di noi che dira critico liderario criticara o est ora non ta obiano liderario e non ta obiano di a costruzione storica fatta più da lideratura che da storia stessa e che può dare a rivoli te allora per compie una di amica abbia un personaggio abbia un evenimento e un monumento in Amodeza ha parlato di un raporto a storia in Corsica un raporto balincesto una storia balincesto che rappresentava su balincesto di un evenimento che tutto il mondo conosce ma da due luane bene da una novella di renucci l'amore della patria due a storia di Pasquale Bauli di insularo c'è una ona che vole ver di manera insistente elu prima un bolemica un bolemica che si diranno giado essa ona di accompagnato da un sidelo forza aborta bene aberelo e dice di beta Pasquale Bauli che dirà incolera gli dice hai due violi sono morti vengono apprisentati l'ultimo e Pauli dia liberdò e dia toccato assai da auguraggio di Saona su se unimento qui dia certo per esse usuggetto di un monumento ai morti di la prima guerra in Bastia una certa strana strana assai e qui sera d'altronde amintada in un romanzo avontana altea diago mutier compare con un analisi di su su batu qui un era nel istese badri nel istese scob e pur si ridro a qui detando qui o balint estupi a tuto zo z su baladi una storia che si scrive si riscrive ma conservando gli stessi occhi e per questo agli travaillare in tale di storia lideratura di scrittura lideraria o di scrittura storica può permettere di rivelete e deve permettere secondo me di rivelete di anegesità di romanzo nazionale e di soprattutto l'ambiguità di una dimertia storica vi ringrazio allora ringraziati assai passo suggero passo aspetti tematichi assai bregisi e poi ci possiamo dare un astondo a giusto appunto per parlare aggiustare completare india altri ui di considerazioni di stampa di storia india literatura corza che corre quanto qui non due secoli non è mica l'un quadro e quattro si può dire di il tempo che c'è stato dato lui e la parola è a parte a qualun qualun bon io ho aggiudino due altre domande non 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 già gomma non io solo participer non ti memoria di Francesco Ottaviano Renucci c'è un affare che ha insegnato quando ha vato a modese da su gigolo nata questa studiando le memoria un registro di memoria mi sono visto c'è un quaderno di pagine che è stato appiccicato dopo prima ha scritto e dopo ha rimesso appiccicato la sovietza e ha cambiato la paginazione e se baggini gusti concernano la storia e l'ide rador e l'ide rador a bocca e diremo in del cantone e del abie che di razoia e di assai di davagna ciò che è interessante e vede per illustrare ciò che hai detto che la storia compresa la storia e la letteratura si face secondo i momenti e secondo ciò che c'è bisogno di contare dimettiamo questi si vede o si può fare l'ipotesi che dì prima scrive la storia di alliteratura vedendo già quella è alliteratura in la lingua italiana per ele forse anche francese ma italiano e dopo quando vengono in Corsica di questo punto que gli gana improntare l'imaginario di Salvador Riviale e in particolare di Tomaseo e tutti vengono scritti italiani che cercano anche un errore nazionale e tanto e lo aggiunge forse sono appena rispettoso ma penso che l'ha aggiunto un passato per uno che non si era mica scordato che la lingua corsa aveva di nuovo illustrato l'estero nazionale una reazione o una remarca allora un sabbia mi casto vato ma di veramente interessante assai sapiccio di desto io penso che veramente un è venito di sfrutta sub periodo qui d'ambiguità di confusione in che dira o dixienoesimo segolo e permet un personaggio come Renucci di un personaggio affascinante assai che ha rappresentato tutte dindanzi e tutte l'ambiguità d'un tempo io quando rivego per esempio su di watti du sedansione che la ui agon su cotar mi pare interessante assai quando o mu le dia perché qui o raporto tra storia lideradora di di no raporto a u tempo che si mette in piazza quando u le die odie e no le dire in uc si boke domanda come su contrasto come sedansione a nubussu do nasce et tanto c'ho la a trawajan anta l'ambiguità d'un tempo l'ambiguità di certe ripresentazione che non più forse gore su odie do do o tre domande rimarchi pisti di no l'intopo giusto appunto entra tra cotar e renucci volete di no che c'è l'intopo di due romanzi nazionali in elaborazione qui uno che ha principiato con Paoli ma Paoli non non ha un romanzo nazionale da a materia par un romanzo nazionale futuro e forse ciò che è mancato qui in l'elaborazione su romanzo nazionale in la letteratura di lingua corza ma di us tante e a nascita di un romanzo épico una specie di breve art corzo che si potrua in l'opera romanzesca di Santucasta con la gelida di Usariseo e che è il primo a sfruttare un personaggio tra il mito e la realtà tra il cronacore e il personaggio di principi di romanzo nazionale e che Marco Biancarelli per esempio considera come uno di primi a creare letteratura corza è Giovanni della Grossa e Giovanni della Grossa che darà tutta materia a Santucasta per nascita di suo romanzo épico e e poi Santucasta faccia due altri romanzi dopo un galerato e cercava prima di un galerato a seguita di un galerato con una maniera di portare un romanzo che usa un poco un romanzo naturalista di 19e secolo caccia un personaggio dal primo romanzo e sviluppa un villo fino all'an 70 o nome di una donna Maria Stella Maria Stella e giusto un galerato scrive di un storia di un tesimo dunque ci poniamo una question in posto che l'hai amintata con Ivanoe e a via herderiana di la Costituzione di un romanzo nazionale servito di no o villo di la Costituzione di un romanzo nazionale qui attraverso la lideratura e andiamo ancora più lontano che varie esempi e pro azine c'ho detto l'altra volta in la tesa di Juan Guido Dalamoni quando Maria Gentili finisce non ta una stadola che è piazzata in core dell'Assemblea di Corsica si è mandata a Gima qui di la Costituzione di un romanzo nazionale con villo che ta idese dunque ecco ti volio rilanciare l'elaborazione di un romanzo nazionale attraverso la letteratura Allora penso che come è come la idea che l'uomo divinisce due maniere di concebire un romanzo nazionale in una storia contemporanea forse andando più lontano forse è più complesso ma ci sono due tendenze che si staccano Maria Gentile è forse un antratapa di la Costituzione di un romanzo nazionale in pochi anni un personaggio si ha dato un nome a un collegio ha dato una statula che d'altronde parete attenzione a un momento di messa in piaccia di sa stad tra pareti gruppi politici quando un s'arriza nomica l'autorità académica è un momento di 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 per me ripresenta un entradà su per corso qui ma io penso che la storia mica di romanzo nazionale ma di concebidura di romanzo nazionale in corsica manca sempre una rivelessione non t'acqua c'è per esempio un continente una squadra di storiani come c'è un citron lorence de coca che hanno avuto di la costruzione di romanzo nazionale una di es priorità penso che in corsica ferma a lanciare su drago e ciò che è interessante in è il discorso che può portare un rappresentante politico non un personaggio ciò che su personaggio ha rappresentato per loro in un passato della storia in un passato quando ha sfruttato per XIX e la terza repubblica tutti i discorsi che sono fatti in giro a San Piero quando si va a Stadula a Paoli quando le voltano esogendere sono discorsi che per certi si ridurano più odie per esempio Paoli presentato come un spesso presentato assimilato a Ulyss presentato come un ero instigatore della rivoluzione francese presentato sempre ocultando Pontenò piattendo a guerra contra la Francia e insistendo non su rol all'Assemblea Nazionale e per San Piero di stessi sempre presentato in uso in uso servizio coavrancia allora qui di un personaggio che ha fatto non mi ha fatto solo e presentato in come coi si ha capito come se le era come se la via puderi divinadores capito o estino grancese di agorsica allora qui la questione che l'osibopone cosa vengono a riprisentare oggi si personaggi qui maria gentile ma più maria gentile cosa vengono a cristallizzare di agorsione che una società si deve poner io per complicato appena la cosa viene da maria gentile un ricordo di una bezza che era stata avata nel 2007 a Gaza e a Gultura e a Gorsa e a MCC aveva programmato una bezza ideale che se chiamava Antigone e Gorsa e che representava a maria gentile e come era in francese come era in francese c'era stata una manifestazione tra gli spettatori per un spettacolo che era stato dato di sabizia variabilità di fare che è un esempio più e poi c'è l'altro esempio che è quello di Niccolò Tomaseo costruzione di visione di visione di avroncia e di gorsica perché ci vuole guardare la realtà storica mi sbaglio ma Niccolò Tomaseo quando scappa dall'Italia o dai paesi che agiscono contro la volontà di riforma e dove trova l'asigno in Francia in Parigi e quando lo costruisce la visione romantica della cultura chi sceglie rinnega a Parigi come a capitale diciamo di Uvizio di di Beatizione e piglia a Britannia e a Corsica perché ha bisogno di costruisce un discorso romantico con semagina gustica ridorna alla torna giochia da convince per cantibugolare dunque la variabilità di discorso nazionale e lui è volta di l'ideologia di 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 rapporto umano con l'ideologia di qualcosa di ricchissimo soprattutto a ste big agui e di l'ispeto super en ucci durante un certo tempo si sa troppo indù indio e pendigedia e dopo la campagna d'idalia si mua poco brezzo siguri di uso attaccamento ma durante un tempo di contunque è più difficile ad ischogli di l'ispeto per grimali perché i somigui hanno un destino famoso un somica di ciò che oggi non un scorno di terra completamente scantato di amore di in lea con tutte le idee moderne di se big agui un uomo come Grimaldi per esempio prima di verso novelle storiche di Roma è particolare a una rivoluzione due ancora appena si va esecutare dall'autorità per esempio solo per dire una cosa apprezzata a Cotard ciò la include in della visione dialettica un epoc affare che forse ha gente che contemporanei non sappiano mica e che noi scoprimmo attraverso un archivio che ha proposto di Gotar bene dopo quella di Mur e quella di Mur ci vuole conto che leggerla quando Mur presenta le letture per i zideli di scuole di campagne grosse che per imparare le francese e davo le letture sono l'artiglio di Diogo di Gi Ben ale francese tu condanné a mort la tet tranché e ci ho rappresentato si giocare lui un rapporto di l'Ittico tra segose gusti e Kotar di 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 è bene in di l'importanza di il rapporto a Udampo ma l'importanza del rapporto ai baroli e ai gunchetti per esempio per tutti i personaggi di XIX sono attaccati a Francia ma per Gorsica di una nazione veramente di una barola che riuene assai assai e il rapporto ai baroli ai discorsi ai gunchetti continuano quando a di morire in la terza repubblica sono consultati tutti i rapporti del consiglio generale di Gorsica e ci sono i brevetti che abrono una scienza e che parlano di popolo Gorsica per esempio una barola che durante anni 70 80 metterà in collera farà reagire una massa di gente l'autorità francese impiega su termine guida dunque è bene in a accendere la complessità del rapporto al passato forse forse di una tuntia o un evidenza ma ha letto un giusto appunto un addes francesco taviani renucci da dire su sogno sincretico di renucci che è un ammiratore di lumi francesi e di rivoluzioni e che è un modello politico molto più con conquista di napoleo rivoli arcol eccetera tocca una realtà di questo punto che napoleo esse esciuti dai lumi francesi dai lumi in generale e da un Europa finalmente marcata su spirito lui e culturalmente firma italiani almeno posto che mi domando se a corsitudine italianità sono veramente explicati all'epoca linguisticamente un nemico in evidenza ma il sogno qui dopo la sconfitta e la scaruta di Napoli perdono il senso e arriva a Rompidou c'è questo sogno che traspasse l'ambiguità e che devono la realtà non? sì l'ambiguità che è francata l'ambiguità l'ambiguità è un prisma interessante qui non non per c'è l'ambiguità in detti forse non si ricorda più di la passata voglio dire qualcosa al soggetto Agosti se è possibile di appunto l'abosizione mentale di l'aglio mentale più che ideologica non ci metto mica approfondità necessaria ma mi pare così di Renucci quando parla dei lumi e che lo va a seguità a scoprire i lumi in Milano e dopo in Pavia ciò che lo scopre è un insegnamento italiano di lumi italiano dunque per ello a sintesi si vage misibare fagioli fagioli perché non c'è mica distacco non c'è mica impresa nazionale francese non ha i lumi a suo punto di vista Agustin quello di una Corsica che ha sempre come tu l'hai detta praticato con l'Italia in maniera continua e ha sempre che Agustin pensiamo alla relazione tra Corsica l'Italia e Francia che l'ha messo in lume in particolare Marcocini e tutti i sottaguagni in due si vede che l'Italia ferma in tutto non aveva l'aberta o 19 non esimo assai più vicino che in Francia sono ma due o aborre di 1830 o Liamone e l'altro a te così 1830 vuole dire che si in attento ma si continua a praticare ciò che si è praticato questa mi pare un'affare importante e poi c'è un'altra affare che il percorso il rapporto di quelli che parlano con gli intellettuali con la politica a differenza mi pare tra Renucci e Vianne è che Renucci è associato veramente a politica amministrativa di avroncia sotto come si chiama non so più mica direttorio ma infine quando non partecipano al dipartamento di Ucolo all'amministrazione centrale del dipartamento di Ucolo ha responsabilità che sono responsabilità in particolare a seguità pubblica dunque a questo invece si vede a Vianne Vianne è obbligato a esiliarsi per ragioni politiche e dunque penso che è importante domenica c'è Ludwig che voleva una domanda o fare una rimarca buongiorno sarei stato domandati se oggi forse in Bastio un altro in Corsica esiste sempre un club literario che sia a favore di espressione italiana di letteratura per apporto Adilavranca un lasso forse che esiste un giantro salvador viale che fasse parecchie pubblicazioni e che s'interessa assai a su periodo gusti ma un assogio proprio liderario a Brod dell'Italia Adilavranca un lasso di espressione italiana di espressione italiana certo un lasso un somico no ci ci dimetivo nanta web abbiamo Corsica oggi Corsica oggi abbiamo come si chiamano come si chiamano in Bastia di Beretti e Poto Boazzo Puccina che era Pauline Salombien prima e l'altra che ha pillato Moseguido c'è Lidia Morfino in Bastia che organizzava giusto appunto un'evocazione a pro di aspergire la lingua e la literatura e c'è Dante e l'associazione che faceva assai e poi dopo c'è i scontri musicali del Mediterraneo che sono proprio a favore della lingua e della literatura italiana e che hanno fatto un'imitazione che si compie la settimana scorsa c'è dunque una perennità e se voglio continuare posso fare un'altra rimarca mi dicere ciò che tu ne pensi i i vigo rappresentanti aspesso abbiamo l'abitudine di marcarli a un livello della storia corta prima di 1769 prima della piccola avroncia ma mi pare che c'è un personaggio che sbocca in la contemporaneità e per un momento non tanto ma manca una volta in della literatura di canzone di un riacquisto di Gianni Goli che incarna Penuccia con una corsitudine con una presa di goscienza di D'Arco Vato di Le Fleur Rouge e la Tête de More cantata d'Apoletti Lettera Nigoli che djoga Nanta Uvronte Nazionale e che doenta così navigua e che è interessante in la misura che pedagogicamente è uno dei primi che si rende conto di una storia trascurata e attraverso l'esempio di l'anciano sudan francese l'attuale Mali o senegale che ha insegnato piglia a cuscienza giusto appunto di la surdità che sarà ripresa da certi historialli di di nos ancetri le golo che di cliché o più con chiuso ma forse se non aviamo d'acciutta in una vigora di un intesimo segolo forse che Edmond Simeone vinarà in tempi or e lasciamo l'u più di cent anni ma forse che Jean nigoli e quel personaggio di dicianuesimo vintesimo che entra in a vigora di a stampa di storia come tu l'hai evocata forse è vero che può figurare in quella conferenza se l'u c'è un autore di un riacquisto che l'u si bo aumentati e poletti ben intesa soprattutto che di forse usò l'odore che ha dato in certi personaggi soprattutto per resistenza una dimensione più nazionale e che franca soprattutto l'u destino allora l'iverenza non si me non un interesse ma Jean Nigoli è veramente una complessità interessante e qui di noi c'è un percorso come l'idea e l'insegnamento a scubertà di Astoria e poi soprattutto una ricostruzione d'arredo un investimento tamanto d'arredo soprattutto in ogni scuola i comunisti come i nazionalisti ci sono spesso c'è stato per esempio nel 2014 o 15 una manifestazione di una giuntura studentina davanti all'Iggeo che porta il suo nome e che ha fatto parecchie controversie e i desti dipoletti aumentano l'aborto complesso tra arrivent contra il fascismo e arrivent di dopo su desto odies sempre in l'ota e sabraza l'ouvrante nazionale d'arredo puerì entra in una riflessione per un square du grid in la storia in tutte vigure di resistenza di la vigure che sta più investita dalla lideratura ma di non dal cinema da testi giornalisti invece di altri resistenti meno omica allora che hanno fatto lui e noi fatti forse non manca una canzone non ta l'u domenico l'u l'u l'estudio è interessante ma l'u è interessante perché domenico l'u dopo ha i sovatti di resistenza ha raggiunto i nazionalisti e ha essere eletto mi pare per resistenza può entra in conto di una construzione di una storiografia contemporanea che non aspettiamo che bovade o che bovade forse non sape cosa ma forse per volta non ti genovesi musico ciò che è interessante nel percorso di barretti autori qui è che una parte sono erudite e c'è canta e per questo forse ciò riarrivo l'uso che li vanno in la literatura e a tempo di storia perché qui so a maestra sono due di scrittura sparente vanno dire che so le pubblicano e vante storie pe 19 per so viale che fa guretione o che mette in ode pe Tomasi o allora che mette in ode pe l'ubert di Giancarlo Gregori ma che a tempo si in pasta faccio una scelta in pasta storia per fare qualcosa d'altro e forse che Gregori è un esempio straordinario di una pe questa posto che le forse per 19 rappresentanti più positivisti di storia isolana ma a tempo di San Pierro gli esogito gli asobiti sa ideato c'è una contraizione d'amante qui se faccio la differenza se gli bo se l'anglo mi manca pena e c'è un altra fare forse è un tratto con 19 o 20 e così parlo appena di un periodo ma un pontello forse mentale di isolano e un rapporto che è inquieto all' Astoria forse per tutti per tutti i bogli per tutte nazion ma c'è per la Corsica e assai un angoscia tremenda di vita storia di vita la possibilità di dare un racconti di storia che non si non si non si ma anche fizionale c'è un angoscia perché non ci riesce mica e qui forse non so mica c'è una possibilità di spiegazione ancora bello digenoesimo ma di una rigorenza e penso che tutto ciò che è fatto in giro a Maria Gentile oggi è di nuovo per trovare un rimedio un metalletto a un angoscia di betta gioco di betta il nostro passato perché se abbiamo bisogno di viure mitologiche per assicurarsi di assai inchiedente posso complicar torna per qualcosa è strano quando tu non mica memoria c'è mica gusti c'è mica memoria c'è mica è bella c'è una cosa c'è ma c'è peo diciotesimo ciò che non diamo è memoria non so manco memoria per esempio ciò che non diamo è memoria e gusta non so mica memoria on parla a elu ma attraverso la memoria on le manca pena assuma sa di vi on che fora di un periodo che lo drata parla mica elu e memoria gusta di ciò che si chiama pamphlet e memoria rostini non so mica memoria aspetta più di un secolo per se pubblicare come quelle di gusta anche i più per gust due cent'anni ma un bole mica i che pubblicazione non c'è mica stata una pubblicazione una pubblicazione una circolazione scusa perché che memoria gusta sono state lette anche prima esse pubblicate lette poco dopo la redazione solo per dire l'aspetto incredente di la storia di presentare una storia non ad un angolo più incredente e lacrimoso è veramente presente ma si va con paretia d' ciò che tu mi dici è di od dra o non conosco mica il numero di desti e poi la particolarità ma è dopo la conquista francese c'è più e c'è forse un paradosso ma c'è contrario che si basa di un 90 cento di lì di dandu di un discorso di vittoria che si mette in piazza allora la storia di agorsica di una successione di disfatti di disgrazie e da restaurazione fino alla terza repubblica si mette in piazza un discorso di vittoria con una visione con un contraddizione ma si brisante si vage uso di vittoria d'una certa maniera si brisante a conquista la francese come una vittoria si brisante a vodiera di genuesi come una vittoria e su discorso qui ad d'un fina un tradu guerre con un tradu che dice l'eloge del vaincu e che forse chiserebbe un ponte paragoni da fac cui do deste che domanda a bere una domanda di marina branca una domanda piuttosto una rima una riflessione e mon parla di maria gentile che paragonata l'antigone corte e poi mi ho fatto piensa di no par jean nicoli che è stato paragonato di no a eme ceser da villetta in di os spettacolo danse memoire danse e trovo che c'è forse su bisogno sempre di paragonarsi con l'altri come spiegate come u udite fengono quando si presenta un eroe un personaggio, un fatto ebbene per l'uomo per l'autorità allora perché sarebbe più lungo a spiegare e se lo si può spiegare non so mica ma c'è sempre il bisogno di paragonare fatti o personaggi al 19esimo a terza repubblica adiuleto pareti discorsi che paragoniano San Piero a Hercule, a Achille Paoli, a Ulysse e adiuleto un discorso che di fatto pendente l'inaugurazione di a Stadula, pendente il ridorno di Egenere e di Paoli su discorso di evato da Monsignore della Voada e Monsignore della Voada dice che il ponteno li va già pensare a Termopil c'è sempre con paragoni che sono esagerati Termopil Ponte 9 cento morti Termopil ma c'è sempre su Isogno e Berra di paragonare i personaggi i destini e i vatti e secondo me un dada mica d'odio con Aviletta e Giannigoli e ho passato di una bellissima idea di paragonare queste due vigure Portipozzo Portipozzo che è comune di Santa Teresa di Galù e a tempo ho visto che i galùresi o poco che ho visto di galùresi in la sua letteratura una mente non mica tanto Ulissi forza in Corsica ma qui di noi in l'antichità la figura di Ulissi che sbarcaria in dei buchi di Bonivaggio è stata poca sfruttata finalmente veramente poca e ora mi accadrò quando si escono le prime storie a scuola durante la terza Repubblica ho avuto un paretio Robert Girolami Cortona anche un altro personaggio che si chiama Gérôme Monti che è veramente sconissuto ma ciò che Luigi ciò è veramente a pubblicarlo e a interrogarci noi non non si interessano mica all'aspetto dell'antichità a principi a San Piero certi è un medio e anche un medio è veramente raro ma più contemporane c'è un investimento di un medio e dell'antichità più una seconda metà di un segno di elaborazione con Guido Benigni di noi di noi con Guido Benigni di noi di l'aventura e noi un romanzo d'aventura che era poco sfruttato fino a oggi ma oggi permette più travali che si vengono nell'antichità che nell'antichità che nell'antichità per esempio e su noi investimenti difficili a spiegare non sono mica un segno di elaborazione più si pubblicano di una storia e più la storia di accorti che si conoscono cacciando archivi cacciando commenti cacciando libri e conoscenze e più la letteratura mi tira un bro che si in francese un corso oppure un altro ma parlo più in un testo di lingui io ci vivo con un segno di un elaborazione e più si si provando una storia di più dell'attualità che porta su di possibilità liderare buona ti ringraziamo assai assai per la ricchezza di ciò che è stato dato e poi ciò che ha indienato di rimarchi qui nel pubblico e poi ci diamo appuntamento a una prossima stonda sempre nella vila di ciò che sbocca di santologia di alliteratura corsa che ne aspettiamo con bravo ma da qui a poco non ne ne aspettiamo e sarà una realtà e ne parleremo sempre nel quadro di Sistone di lui e beh a una prossima e ringrazio a tutti grazie